Tullio, ti leggo il fondo di Javaroski domenica mattina dopo la partita del Napoli, prima pagina del mattino. Uno 0-0 piuttosto vivace, di spessore, a modo suo espressivo, ma un fermo immagine in classifica. Tra Napoli e Genova va a finire così, eccetera, eccetera. Partita agonistica, piacevole, però non è arrivata la vittoria sperata. Qualche attenuante per gli azzurri sussiste e l'elenca. Il campo infame, formazione imposta dalle assenze e una strategia difensiva. Punto. Ma il capo redattore del mattino doveva dire che in prima cosa siamo stati truffati dall'arbitraggio. Quello doveva dire. E perché non l'ha detto? E no, perché due sono le cose. O non ha visto proprio la partita o si è interrotto il collegamento con il calcio Napoli perché lui parla solamente a comando. A comando parla. Grazie Tullio.